A Molfetta ci sono molti proprietari di casa alla ricerca di un acquirente per il proprio appartamento e magari sbagliando si sono anche rivolti alla concorrenza che tiene gli immobili bloccati per chissà o da chissà quanto tempo. Inoltre vuoi sapere perché la concorrenza ancora non ha trovato gli acquirenti dell'appartamento? Semplice perché loro tentano di vendere le case quando invece agli acquirenti piace comprare le case tant'è che noi abbiamo cambiato il nostro cartello da vende in comprami. Vedi? In comprami. E siamo gli unici in Italia ad averlo fatto. Oggi conoscerete Daniele e Rossella che verranno con me a vedere un appartamento da comprare. Se a loro piacerà poi ci sarà un seguito. Quale sarà il seguito? Lo scopriremo insieme. Adesso abbiamo l'appuntamento con gli architetti di facile ristrutturare per valutare insieme le potenzialità di questa casa. Tra poco ve li presento. E sono arrivati Daniele e Rossella. Ciao ragazzi. Adesso che faremo? Andremo a dare un'occhiata all'appartamento insieme all'architetto. E se poi la cosa andrà bene continuo a guardare il video che ci saranno delle belle. E' arrivato l'architetto Sabina. Sabina, secondo te. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Di facile ristrutturare. Secondo te riusciremo a trasformare questo rospo in principe? Non ho alcun dubbio. Bene, adesso saliremo e faremo un sopralluogo alla casa. Buongiorno. Ok, l'appuntamento l'abbiamo terminato. Il sopralluogo l'abbiamo fatto. Che cosa succederà? quale sarà la sorte di questa casa? E tu continuo a guardare il video perché adesso vedrai come andrà a finire. Ok, e Rossella ha comprato la casa. Peggio del matrimonio, mi sono sentita. No, no 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 Grazie a tutti